A caccia di alligatori nelle savane della Louisiana meridionale. Non vi aspettate però di vedere uno spettacolo emozionante ed un formidabile apparato di caccia. Ecco la buffa maniera con la quale si procede alla cattura del grosso sauriano. Intanto per avanzare sull'infido terreno paludoso e molle, bisogna ricorrere ad un trattore a cingoli, armato di una specie di pennone, sulla cui sommità un cacciatore dalla vista acuta funge da vedetta, e col grido di Gator, abbreviativo Yankee, per alligatore, annuncia ai compagni di aver avvistato la freda, che viene abbastanza facilmente presa a laccio. Questa caccia, veramente incruenta, ha il suo epilogo nelle concerie, dove la pelle degli alligatori viene trasformata in accessori dell'eleganza femminile. Musica